Direttore, recentemente anche durante una nostra ospitata a Caffè Bollente abbiamo parlato proprio degli attacchi al personale dell'emergenza urgenza. Lei aveva parlato della sicurezza passiva e di tutte le azioni che l'azienda intende mettere in campo. In realtà ce ne sono altri. L'azienda sta cercando di ubbidire un principio assoluto per me che è la protezione massima dei professionisti di questa azienda. Sul personale sanitario l'obiettivo che abbiamo è di non far sentire solo nessuno dei nostri professionisti che vengono accompagnati sia sotto il profilo psicologico sia sotto il profilo giudiziario nel segnalare i fatti all'autorità giudiziaria. Una delle modifiche che abbiamo introdotto è che non sia solo la vittima soggetto dell'aggressione a doversi preoccupare della segnalazione all'autorità giudiziaria ma è tutta l'azienda. In determinate circostanze anche io personalmente segnalerò i fatti alla procura della Repubblica in maniera tale da fornire alla procura tutti gli elementi necessari per perseguire l'autore del reato. Non è accettabile che persone che vanno a lavorare subiscano un'aggressione. Poi peraltro professionisti che fino a qualche anno fa classificavamo come eroi veri e propri.